Benvenuti in Essenziale, il progetto innovativo del Comune di San Lazzaro per una vita più sostenibile. Scoprite come ogni servizio contribuisce a creare una comunità più rispettosa dell'ambiente. Ciao, sono Michaela Casalboni dell'ITC Teatro di San Lazzaro. Usiamo la stoviglioteca per i nostri eventi, per evitare la plastica usa e getta e usare stoviglie riutilizzabili. È un servizio innovativo del Comune di San Lazzaro che ci aiuta a ridurre i rifiuti e promuove la responsabilità ambientale. Buongiorno a tutti, mi chiamo Roberto, sono della cooperativa sociale Agriverde che lavora per il conto del Comune di San Lazzaro. In questo momento stiamo sfruttando una macchina che trasforma il prodotto delle potature in cipato. Potrà essere utilizzato per fare il compostaggio o la pacciamatura dell'aiuolo. Questo è un servizio che il Comune di San Lazzaro offre a tutti i suoi cittadini. Ciao, sono Martina e ho adottato i pannolini lavabili, una scelta supportata dagli incentivi del Comune di San Lazzaro. Questi pannolini, oltre ad essere un'opzione ecologica, sono molto delicati e pratici. Contribuiscono a ridurre i rifiuti e sono un passo importante verso un futuro più sostenibile per tutti. Salve, sono Elena e questi sono presidi femminili riutilizzabili, un'alternativa sostenuta dal Comune. Sono comodi, rispettosi per l'ambiente e aiutano a diminuire notevolmente i rifiuti. Questa scelta non solo bene chi c'è a me, ma è un aiuto concreto alla salvaguardia dell'ambiente, dimostrando come le scelte quotidiane possano fare davvero una grande differenza. Sono Mario dell'Orto Teca di San Lazzaro. Oggi vogliamo parlare di compostaggio. In quanto il nostro Comune dà a titolo gratuito la compostiera per fare questo prodotto. Serve sia per l'orso che per il giardino. Questo servizio che il Comune dà per migliorare la nostra ecologia, migliorare il terreno, migliorare le nostre piante, è per realizzare proprio la natura. Ciao, sono Alessandro. Nella nostra mediateca e nelle nostre scuole, gli erogatori d'acqua microfiltrati del Comune offrono la possibilità di rimanere idratati in maniera sostenibile. Ad ogni riempimento di borraccia, riduciamo i rifiuti di plastica, promuovendo così uno stile di vita ecocompatibile. Inoltre, le case dell'acqua di Via Giovanni XXIII e Via San Ruffillo offrono acqua microfiltrata a pochi centesimi per litro. Queste rendono l'acqua di qualità accessibile a tutti e aiutano a ridurre l'impronta ecologica della città. Il nostro Comune si impegna concretamente a rendere i propri eventi essenziali, mediante l'utilizzo di bicchieri e stovigli riutilizzabili e l'installazione di erogatori portatili per l'acqua. Anche tu vuoi organizzare un evento pubblico? Richiedi al Comune la disponibilità per avere in prestito le attrezzature necessarie. Essenziale è più di un progetto. È la visione di San Lazzaro per un domani sostenibile. A rifiuto zero. Unitevi a noi in queste iniziative che promuovono l'economia circolare nella nostra città per un futuro più sano e responsabile. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS